Buongiorno a tutti, siamo alla mezza terme in 12 novembre 2016 per fare taglio al maturità della Paolonia Cotevista 2 su questo impianto che è cresciuto dopo due anni e mezzo, dopo taglio tecnico e sono anche di 40 cm di diametro dopo due anni e mezzo. Si può fare vedere a tutti che la pianta è fatta taglio, una parte perché piove tanto e non si può entrare più, però domani dopo domani si continua questa. E io voglio che la gente che è qua, che gli altri sono sulle macchine, non vuole rovinare le scarpe, non vuole rovinare le scarpe, mi dispiace per loro perché è difficile entrare qua. Voglio la vostra impressione, subito un po', prego, forte. Sono piante di due anni e mezzo, l'abbiamo visto, si sta facendo un taglio che purtroppo non si può portare a termine perché col trattore si si affombano, non è possibile segnare un po' aiutato. Forza, forza. Però siete di contenti o no? La pianta cresce o no? Sono stato bugiardo con voi in contratto. Allora, siamo contenti, no? La pianta cresce, la pianta è pagata e allora che aspettiamo ora? Grazie tanto perché siete venuti qua, anche da che qualcuno ha rovinato le scarpe. Grazie, grazie, arriva, 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 arriva. Vieni, 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 dimmi, dimmi, è cresciuta la pianta o no? Tutto bene. Come tutto bene? Non è bene perché non è, siamo troppo pochi qua. Tutto bene, io ho misurato tutto, eh? Tutto a posto? Ok. Eh, sono stato bugiardo? No, no, no. E questa è curata bene secondo te o no? Sicuramente è meglio. Sicuro questa? E le mie saranno sicuramente, non dico il doppio, ma quasi. Complimenti, complimenti per tutti. Andiamo su una piantazione che è curata molto bene qua, che il signore ha vinto un hectaro come premio perché ha mantenuto bene il primo anno dopo il taglio tecnico. Va bene? Ok.